ciao belve per me è un vero piacere oggi sono qui anzi siamo qui siamo io e lo specialista lui con una fronte tranquillissima mi sta dietro anzi mi sta davanti io con la mia solita canivo siamo a treia la giornata è stupenda sono 30 quasi 35 gradi e andremo a fare la maddie line vediamo come questa pista seguitemi passo dopo passo e ricordati che la tranalina scorreva fiumi prepariamoci si è già pronto oggi abbiamo fatto l'ombrella la maddie line la robicon la dh lo specialista era sempre con la sua fronte tranquillissimo non accusato di niente bene andiamo giù il primo pezzo della maddie line segue quello dell'ombrella e dopo c'è una diramazione è una pista mi piace anche questa mi piace ci sono meno salti dell'ombrella ma è una pista veramente gustosa se non si vuole sbagliare bisogna stare attenti alle indicazioni oggi il terreno c'è un po di ghiaia quindi sto attento primo saltello però c'è la diramazione che ci porterà alla maddie line questo qua è un pezzo di salita che mi frega sempre secondo strappetto in salita che adesso qua c'è la maddie line si va a sinistra a destra si va per l'ombrella io come sapete vado tranquillo anche perché questa è la quinta discesa che mi faccio per oggi le braccia sono affaticate e la maddie light o che starci attenti perché c'è un punto con le rocce molto insidioso mi dicevano che qualcuno si è fatto molto male l'am portato via in ambulanza quindi non vorrei essere il prossimo qui si va giù è tutto single track molto veloci molto lineari salto 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 qui andiamo giù 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 il terreno come ho detto è pieno di ghiaia un po di riposo salto salto un pezzo in piano per la maddie line dritto qualcuno sbaglia gira sinistra seguiti i cartelli sono belle entrambe oggi però mi piaceva far questa questo è da pompare un altro salto fra un po arriveremo al punto con le rocce quello più insidioso ho preso molto bene una volta finito quel punto delle rocce la maddie line è conclusa chi va sempre giù bellissima infiato è corto stampa arriviamo al punto quello più duro siamo quasi arrivando ci va sempre giù abbiamo passato da poco una passarela di legno punto di rocce questo più brutto tutto che sta molto attenti perché va giù parecchio ed è tutto spasciato ok perfetto da che nevo ha copiato bene e poi su faccia l'esperienza quindi mi fa un baffo come sempre sto aspettando per oggi mi sono ribaltato solo due volte ok la maddie è bella seguita qua c'è una buca da prendere bene ok benissimo fatto e anche questa ragazzi è conclusa andiamo in uno spiazzo spero che la maddie vi sia piaciuta e che le riprese siano ottime come andata? da dio è uno spettacolo bene io ragazzi vi saluto è stato un piacere ci vediamo alla prossima ciao belve questo è il parco finale della pista adios sì 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 lì